Prasciutto? Abbiamo rapito la cosa quittini di più, Sonic? Mia madre? Oh no! Il mio amico Tails? No no! Il mio Sega Mega Drive? No! Domannolo? Il mio chiosco di chili dog di fiducia? Ma sei serio? Senti, passami il telefono che ci parlo io con lui. Scappa amico! Scappa! Allora, abbiamo il pianerottolo pronto, lo gli ami, la macchietta e anche il cavallo. Siamo pronti per la raspa. Tu ci sei? Sì, con ci sei è colpito e affondato. Mannaggia il quarto smerato del caos. Intendo dire, sei pronto? Ah giusto, sì, sono pronto. Molto bene, diamo inizio alle danze. Ma non dovevamo fare una rapina? No guarda, andiamo a ballare con il bottino. Ma io non sono programmato per ballare. Ma pezzo di ferraglia, parlavo proprio della rapina. Ah ecco, mi sembrava... Ehm, dicevo, fai la tua magia. Ok, caos control! Dovremmo essere nel posto giusto. Porco caos, è buio pesto qui. Tu, Luci! Salve, avete un minuto per parlare del signore salvatore King Boo? E tu che dicivi che eravamo nel posto giusto? Zona buia, uguale rovina interna, era questo che avevamo scapidito. Io odio i fantasmi, sono immuni ai miei proiettili. Gli ospiti arriveranno tra mezz'ora. Ehi Dio, devo ancora cambiarmi, devo ancora lavare il bagno. Cos'è che senti, Therese? Ah no, tranquillo. È solo mia madre che impazzisce ogni volta che arrivano ospiti. Lo fa quasi tutte le vo... Oh cielo! Non ti azzardare a bere la soda, che è quella per gli ospiti. Se siete, bevi acqua. Ehm, ok, ma... Allora bevo acqua, stavo dicendo che... Cosa, accidenti! E di non bere della bottiglia, prenditi un bicchiere. Ok. Non so come, ma ultimamente mia madre sta diventando... Oh, oh... E non mangiare fuori il pasto! O come ti ho fatto, ti distrubo! Ma non hai aiuto! Ah no, volevo dire... TAPA MIA, AIUTA! Salve, signore! Come mai lei è lassù? Quei cos'è, ti... Non è che mordono? Eeeh... Sì, signore! Stanno ancora masticando i resti del postino di ieri! Ok, ecco qui il vostro pacco! Addio! Cream, tesoro... Non avrei mica traumatizzato un altro postino con le tue macabre storielle, vero? Io? Ma ti sembra la tipa che fa certe cose? Sì? Chi è? Ciao Emy, sono Sonic! Sei pronta per la nostra serata insieme? Perfetto! Cinque minuti e sarò subito da te! Molto tempo dopo... Eccomi! Sono pronta! Che te ne pare? Mi scusi, signorina! Chi serve lei? Esagerato! Mica ci ho messo così tanto! Se c'è qualcosa che ho imparato nelle mie ultime esperienze, è che non esiste un io quando si è parte di una squadra. Però, esiste un io nella frase... Non ho chiesto quanto grande è la stanza. Io ho detto che casto un Chaos Blast! Ma c'è anche a te Shadow, dinamitar dove... Prendo un voto 6 a scuola, all'elementari! Ragazzi, ho corretti compiti in classe. Ray, mi dispiace ma tu hai preso 6. C-come sei? Eh sì, sei. Per tu, per tu, per tutte le ghiande? Ma sai fa schifo! Vabbè, la prossima volta farei meglio, ok? Ma no, come farò adesso ad alza, alza, alza la media! No! Eh eh, sfigato! Charmy, anche tu hai preso 6. Oh no! Zzzzz, io ho perso mi farà la bua! Alle medie! Ray, hai preso 6. Eh vabbè, la prossima volta farò meglio. Charmy, anche tu hai preso 6, sai? Ma perché prendiamo sempre gli stessi voti? E che ne so io del perché? Alle superiori! Ray, tu hai preso 6. Sì, per tutta la ghiande, evviva! Spaziale! E io quanto ho preso? Tu, Charmy, hai preso 2. Ma come 2? Sul foglio hai scritto solo il tuo nome. Eh ma prendiamo sempre gli stessi voti, no? Non funziona così, genio. Molche che... E occhio al linguaggio, ragazzo! Uff, dopo questa missione mi serve proprio una cioccolata calda. Sonic, sei tornato fino al me... Eh eh... Dove sei stato? Sopra le montagne a fermare un altro macchinaio di Eggman. Ma hey, non volevi abbracciare il tuo eroe? Ti riabbraccerò dopo che ti sarai fatto una doccia bollente. Sembri un cubetto di ghiaccio adesso. Ok, ok, come vuoi. Vado a farmi la doccia. Ciao! Poteva anche avvisarmi quello scemo che andava in montagne! Sonic! Se non ti ha distrutto Eggman ti distruggo io! Non voglio studiare! Cream, non farmi arrabbiare! Vieni qui a studiare! Uffa mamma! Sai che non mi piace studiare! Ascolta la mamma che quello che studi ti servirà in futuro! Non mi va! Studiare è inutile! Sovia, Vanilla! Se non le piace studiare non le piace! Neanche a me piaceva studiare alla sua età! Lo sanno tutti che puoi studiare! È una perdita di tempo! Visto, lo dice pure lo zio Vector! Vanilla, c'è un problema! Non capisco come mai non mi funziona il caricabatterie! Ah, ecco perché non funziona! Grazie Cream! Niente, non funziona lo stesso! Secondo me il caricabatterie è rotto! È meglio che mi metta a studiare! Sennò divento come lui! Boo! Ahahahah! Ma che ti sei messo in faccia, Emy? Boo! Sul serio? Leggia contatto! Aiuto, Sony! Ma come ti sei conciata? Da spettacolo di maionette! Basta! Ci rinuncio! Mi preparo per andare a nanna! Tu non vieni a dormire, Sonic? Ahahahah! Ahah! Molto divertente, Sonic! Benvenuti in Sonic Italia Shots! Dove il mondo va di fretta e nessuno si ferma mai! Tra risate e cose, tutto è più folle! Sonic e la crew pronte a fare scintille! Oh, Sonic Italia Shots! Ogni puntata è un'avventura da ridere forte! E con amici e nemici, qui tutto è un gioco! Nel caos colorato, accendiamo il fuoco! In Sonic, corri, fai ridere ancora! È un colpo di scena, è una corsa che vola! In Sonic Italia Shots, la risata non si ferma! È tutta un'avventura, è tutta una festa eterna! In Sonic Italia Shots, la risata non si ferma! Grazie a tutti